Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'Abruzzo si tinge di due colori, è la prima volta che avviene. Su ordinanza del presidente della regione, Marco Marsiglio, le province di Pescara e Chieti saranno a partire da domenica in zona rossa, mentre quelle di L'Aquila e Teramo in zona arancione. I dati delle ultime due settimane sono stati impietosi, condannando così la regione a una retrocessione nella fascia peggiore. Addirittura per il pescarese e il chietino c'è un doppio salto all'indietro. Da domenica così si torna all'antico, con bar e ristoranti chiusi e aperti solo per l'asporto, ma sarà la stessa cosa anche per tutte le altre situazioni previste in questi casi. Spostamenti vietati al di fuori del proprio comune. Per di più il Consiglio dei Ministri ha rinnovato il divieto di spostamento tra le regioni fino al 25 febbraio. E poi musei chiusi, centri commerciali chiusi nel fine settimana. Per quello che riguarda le scuole entrano in vigore le misure ristrettive che prevedono la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado e per le classi di seconda e terza media. Restano in presenza le scuole dell'infanzia, le elementari e le prime medie. Dopo Pescara comunque anche Chieti ha chiuso le scuole totalmente fino al 27 febbraio. Università chiuse. Il problema per l'Abruzzo poi è che con i dati di questa settimana, che verranno poi valutati la prossima, il rischio di zona rossa totale è dietro l'angolo. Per di più per domani, ultimo giorno di zona gialla, sono previsti controlli a tappeto soprattutto nella città di Pescara per evitare assembramenti pericolosi. Nel capoluogo pescarese i non residenti non potranno entrare nell'area metropolitana nemmeno domani. Inutili le proteste dei ristoratori e degli esercenti. Va sottolineato che la variante inglese ha colpito e anche in maniera dura, anche se in Italia la percentuale della variante ha raggiunto il 20%. Ma anche gli abruzzesi ci hanno messo del loro. A conferma dei dati ci sono anche quelli di oggi che non sono buoni. 357 i nuovi contagi su un totale di tamponi molecolari e test antigenici pari a 8.463 per una percentuale di contagiosità pari al 4,2%. Se si fa il conto solo sui molecolari, dato più attendibile, la percentuale è del 9%. Sette sono i decessi di giornata che fanno salire il totale a 1.545 e coprono tutte e quattro le province. Si diceva della variante inglese che sta colpendo duro. Lo dimostra il fatto che nel pescarese i nuovi contagi sono 133, nel chietino 128, mentre dove la variante non c'è i numeri sono più bassi, 44 nel Terramano e 49 nell'Aquilano. Aumentati anche i ricoveri ospedalieri nelle terapie non intensive, che hanno 5 letti in più occupati per un totale di 507 pazienti, mentre resta invariato il dato riferito alle terapie intensive, che sono 53. Cresce fortunatamente il numero dei guariti, che aumentano di 167 unità e salgono a quota 34.441. Questo fa sì che gli attualmente positivi nella regione siano 11.057, e cioè in crescita di 183 casi rispetto al dato di ieri.